Ci sono i maschi, poi ci sono gli uomini, quelli veri, quelli che l'unica cosa di cui hanno paura è far vedere le loro lacrime. E alla fine non si vergognano nemmeno di quello. Ad essere l'uomo non ci nasci, lo diventi col tempo, alcuni fanno prima, altri ci mettono di più e c'è anche chi alla fine non lo diventerà mai. Un vero uomo è colui che ha imparato ad amare prima di far l'amore, è che ti guarda dritto negli occhi quando ti parla, sia che debba dirti un ti amo, sia che debba rimproverarti. Non sta mai con un piede in due scarpe e cammina sempre a testa alta. Non ha paura di fare il primo passo, di provare a baciarti, di buttarsi con te. E' quello che si distingue, quello che fa sentire la donna o l'uomo del suo cuore l'unica cosa importante della sua vita. Non una delle tante. Un vero uomo è l'unico che continua a corteggiarti, anche dopo averti già conquistata. Un vero uomo lo riconosce soprattutto da come sbaglia. Se chiede scusa, ha le palle. Se trova scuse, è un coglione. In genere la classe di un uomo si vede dal tipo di donna che corteggia e la sua intelligenza la noti da come tratta gli altri, da come porta rispetto. Essere uomo significa che non conta chi è buono di fronte a te, ma chi è leale e onesto dalle tue spalle. E ti auguro di trovarlo un vero uomo. Uno di quelli che sa farti sorridere, anche quando vorresti solo piangere. Uno di quelli che ti prende e ti porta via quando hai bisogno di scappare. Uno di quelli che, anche quando non ci sei, pensa a te. Un uomo che guardandoti negli occhi saprà dirti sono veramente fortunato ad averti con me.